In questi giorni è iniziato il montaggio dei ponteggi esterni alle facciate di Villa Bottini per i lavori di restauro che riguarderanno gli elementi lapidei, il cornicione e la gronda del tetto. L'intervento di ristrutturazione è finalizzato anche al ripristino degli intonaci, la tinteggiatura delle facciate ed il restauro di tutti gli infissi esterni. I lavori, approvati dalla Giunta Comunale nello scorso agosto, prevedono una spesa complessiva di circa 140.000 euro, di cui 100.000 finanziati dalla regione toscana. Il nuovo intervento fa seguito a quello avvenuto nel 2016 per la ricostruzione della parte nord del muro perimetrale, crollato nel 2007 in via Santa Chiara. Villa Bottini è l'unico esempio di villa urbana rinascimentale di Lucca e ha costituito il prototipo per molte altre ville lucchesi del territorio. La villa fu acquistata dal comune da privati in pessime condizioni più di 40 anni fa e fu sottoposta a un primo restauro conservativo grazie all'aiuto della regione toscana.